Nel fare la riforma lei ha trascurato una regola fondamentale, direi l'ABC per chi si accinge a cambiare un sistema pensionistico ed era un errore grave per un ministro tecnico per di più esperto della materia. La regola fondamentale è quella di assicurare un adeguato periodo di transizione a tutela non già dei diritti acquisiti ma delle legittime aspettative di fatto delle persone a costruirsi dei piani di vita affidabili. L'Italia rischia di avere la riforma più severa d'Europa ma di vedere il suo governo e i governi che verranno dopo il suo costretti a scervellarsi per anni, a studiare, a finanziare deroghe all'applicazione di norme socialmente insostenibili. Ecco perché il popolo delle libertà chiede al governo di trovare una soluzione ragionevole che dia una risposta ai problemi già critici in un arco di tempo di alcuni anni programmando nello stesso tempo un percorso che tranquillizzi gli italiani e che eviti a questo Paese, e se non sarà così purtroppo la conseguenza sarà questa, una campagna elettorale sugli esodati.